Io sono convinto che hanno il termine, mi sembra ultimo, non vorrei sbagliare, il 24 maggio, però sono convinto già dal messaggio che ieri la De Micheli, rappresentanza del governo, ha lanciato dicendo che per l'Aquila i fondi ci sono e sono convinto che troveranno anche questi fondi che servono quantomeno per riparaggiare il bilancio. E l'auspicio del presidente dell'Aquila Gianni Frattali, rappresentanza dei costruttori edili impegnati nei cantieri del cratere sismico, preoccupati ma anche fiduciosi sulla possibilità che alla fine il governo stanzierà i 24 milioni di euro di trasferimenti straordinari necessari al comune per chiudere il bilancio di previsione. L'alternativa del resto sarebbe la caduta della maggioranza del sindaco Massimo Cialente. A tal proposito, ieri il sottosegretario Paolo De Micheli, interlocutore governativo privilegiato per la ricostruzione abruzzese, ha annunciato che sarà nel capoluogo in occasione della rassegna di restauro e riqualificazione urbana Officina L'Aquila, organizzato da Ancia, Abruzzo e Carza, dal 24 al 26 maggio 2016, nei giorni insomma in cui il bilancio di previsione arriverà in consiglio comunale. Ieri a Roma la De Micheli non ha detto nulla relativamente al trasferimento dei 24 milioni, ma ha più volte rimarcato che la ricostruzione resta una delle priorità nazionali e a confermarlo sono i numeri e i fatti concreti. In questo biennio nel quale appunto anche io ho agito a sostegno della ricostruzione aquilana noi abbiamo garantito 2 miliardi di euro per la ricostruzione privata. Abbiamo confermato il 4% degli stanziamenti per la ricostruzione privata ai progetti di sviluppo economico. Ci sono quasi 3 mila cantieri aperti in questi due anni, ci lasciamo alle spalle, diciamo così, lavoro per 19 mila persone. Sono state coinvolte oltre 2 mila e 70 aziende, di cui più di 900 hanno la sede legale nel territorio aquilano.